Il Pedibus è un autobus umano che ha un autista e un controllore e porta i bambini da casa a scuola. È un percorso che si fa lungo una linea che viene, un percorso diciamo stabilito su una linea stradale che viene decisa dai bambini e dalla scuola per raccogliere questi ragazzi che aspettano questo gruppo che parte da un determinato punto e lungo la strada si ingrandisce e si raccoglie sempre più bambini ovviamente con i loro giubbotti, rifrangenti, come minimo un accompagnatore davanti e uno dietro per i controlli e nell'arco di percorsi che variano intorno al massimo ai 400-500 metri porti i bambini a scuola a piedi anziché in auto. Abbiamo visto che c'è stato un notevole riscontro di favore da parte dei bambini perché si divertono in questo modo, si parlano, colloquiano e quindi c'è molto interesse e speriamo che questa cosa continui. Il punto debole del pedibus è l'accompagnamento, se mancano i genitori il pedibus non si fa e quindi il tema dei prossimi mesi e settimane è quello di costruire intorno a questa esperienza anche la partecipazione di strutture e di associazione che possono dare una mano a garantire la continuità di questo servizio. Oggi è stata una giornata dedicata a rilanciare il pedibus a Novara. Abbiamo fatto l'anno scorso con Assessorato in mobilità e istruzione un primo esperimento che è andato molto bene purtroppo solo in una scuola perché le altre due scuole hanno avuto problemi organizzativi con i genitori ma essendo stato un esperimento di avvio possiamo dire che laddove è partito nella scuola Pia Lombardo di Lumellonio c'è stato un risultato sicuramente molto significativo. Hanno partecipato diversi bambini, numerose mamme che hanno accompagnato i bambini a scuola c'è stato un risconto positivo sia sul piano didattico dell'interesse e soprattutto poi dell'obiettivo raggiunto che è stato quello di portare i bambini a scuola e non portarli in macchina. Questo progetto riprenderà anche quest'anno, 2012-2013, si stanno candidando altre scuole si organizzeranno meglio i turni, cercheremo anche di sollecitare l'apporto dei nonni delle più diverse associazioni in maniera tale da garantire l'accompagnamento. L'obiettivo è sempre quello, fare sì che l'accompagnamento a scuola diventi finalmente un fatto anche di educazione alla mobilità, di miglioramento ambientale non utilizzando l'auto, di scoperta della città andando a piedi. Questi sono i nostri obiettivi e cercheremo di proseguire con questo stimolo a tutte le scuole che lo vorranno realizzare. Per quanto l'amministrazione riuscirà a fare con le risorse che avremo a disposizione sicuramente faremo gli interventi minimi di segnaletiche, informazioni e messa a sicurezza con la necessaria gradualità. Perché tradizionalmente le nostre scuole hanno una sensibilità particolare per l'educazione ambientale. Tanto è vero che siamo anche scuola Polo rispetto alla rete cittadina che comprende una serie di figure soprattutto docenti ma anche collaboratori esterni che hanno appunto questa sensibilità per l'ambiente per cui organizzano annualmente tutta una serie di eventi legati a questo contenuto, a questo tema. Per cui quando l'assessorato ha proposto questo progetto noi ci siamo resi disponibili ovviamente ad ospitare sia il seminario sia eventualmente delle proposte relative a questo progetto. E quindi abbiamo come dire la volontà, la disponibilità anche a sensibilizzare i genitori che sono poi nella fattispecie dovrebbero essere i protagonisti di un progetto di questo tipo. Quindi la scuola è un po' come volano, in questo caso la scuola non si ha su in prima persona il progetto perché non ne ha le risorse ma forse nemmeno le compete, però può essere come dire una buona sensibilizzatrice rispetto ai genitori e rispetto alla sua utenza. Ecco, quindi questo in sostanza.